A causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria per il secondo anno consecutivo, la Santa Pasqua ha subito numerose limitazioni sugli eventi religiosi. A Teramo, come di consueto, il Vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi ha voluto inviare un messaggio ai fedeli, in particolare alle nuove generazioni, che in questo momento così difficile vivono una condizione di grande instabilità emotiva. Ma io credo che questa esperienza e questo movimento ancora di più ci invita a riflettere sulla tomba vuota. Non ho ribadito nella mia lettera ai giovani per la Pasqua, ma vorrei davvero che fosse una grande occasione per tutti, ritornare alla tomba e rendersi conto che quella tomba era vuota. I discepoli l'hanno trovata vuota, le prime donne, poi i discepoli, e noi vogliamo davvero ritornare alla tomba vuota perché l'esperienza della risurrezione di Cristo è davvero l'evento che ha cambiato la storia. E noi parliamo in questo tempo che il mondo è cambiato, tutto sembra che debba cambiare, ma in realtà dobbiamo trovare qual è l'evento che ha cambiato la storia per poter vivere poi gli avvenimenti che la storia ci presenta, come in questo caso l'emergenza sanitaria, e capire come affrontare questa difficoltà. Molte volte ci si limita soltanto a riflettere sul cambiamento o per il cambiamento. Oggi nella società moderna queste prospettive hanno poche possibilità di far ripartire le nostre comunità e soprattutto far ripartire la nostra vita. Ecco, io vorrei davvero invitare tutti coloro che mi ascoltano, che attraverso la vostra emittente vi seguiranno, di davvero avere la bontà di riflettere. Se quella tomba è vuota, la storia è cambiata. E allora il vero cambiamento parte da questo annuncio, da questa esperienza che io sono certo coinvolgerà tutti noi per poter ripartire con gioia e affrontare quei cambiamenti sociali, culturali e politici di cui abbiamo bisogno, e sanitario naturalmente, ma tutto ciò può avvenire solo se noi ritorniamo alla tomba vuota e godere che il Signore, il Crucifisso, non è più nel seppocchio, ma è presente in mezzo a noi.